Musica Mercoledì 5 agosto, bentornati, le notizie di oggi. Si dimentica l'iPad nel ristorante, torna indietro a prenderlo e ci trova Ila Andri, protagonista della disavventura, il titolare del Sailor Club by Marinero sul lungomare Mameli di Senigallia. Nella notte tra lunedì e martedì, tornando a prendere il tablet, ha trovato una persona che è scappata dimenticando uno zainetto. Dopo qualche istante sono tornate in tre, due hanno preso lo zainetto e sono spariti, mentre il terzo l'ha afferrato per la maglietta. Il giovane, piagnocolando, ha chiesto che lo lasciasse andare, poi divincolandosi è riuscito a sfilarsi la maglietta ed è riuscito a scappare. Sono in corso le indagini. Ieri si è aperto un periodo di apertura integrale al traffico pedonale di via San Martino a Senigallia, mercatino delle eccellenze con la mostra dei migliori scatti di coste, fiumi, paesaggi in mutazione, promosso da Legambiente e dall'Ordine degli Architetti di Roma. Nella prospettiva di un centro storico che riesca a dispiegare fino in fondo la sua vocazione di essere centro di eccellenza per il turismo nazionale e per il territorio, l'amministrazione comunale di Senigallia e Legambiente hanno tagliato il nastro per la pedonalizzazione di via San Martino, appunto un ulteriore spazio del centro storico consegnato ai pedoni e alla fruizione lenta della città. Il roadshow a chiusura della campagna nazionale di lotta alla contraffazione farà tappa a Senigallia, in piazza della Libertà il 7 di agosto dalle 10 alle 18. Una campagna nazionale di informazione nazionale sul tema della contraffazione che si chiude qui a Senigallia il 7 agosto e vi aspettiamo tutti in piazza per avere informazioni sui prodotti contraffatti, per trascorrere insieme in maniera giocosa, divertente, un po' di tempo e cercare di capire insieme che cosa bisogna evitare del prodotto contraffatto, perché il prodotto contraffatto fa male, fa male alla nostra salute, fa male alla nostra economia, toglie posti di lavoro, genera evasione fiscale e quindi tutti insieme in piazza con un attore che farà degli sketch teatrali, con giochi per bambini, tutti per imparare, avere informazioni ed imparare a riconoscere i prodotti contraffatti. Il Museo Onario di Nobili di Tre Castelli inaugura giovedì 6 agosto alle 21.30 la mostra fotografica a ritratti al femminile di Emanuela Sforza. Donna e artista originaria di Serra dei Conti e bolognese di adozione, Emanuela Sforza porta con sé da sempre un'inesauribile passione per la fotografia che si sviluppa in un percorso del tutto personale da quando nella seconda metà degli anni 70 scopre il fascino della danza che diventerà uno dei punti fondamentali della sua ricerca. In mostra saranno esposte opere significative del percorso artistico della Sforza in cui si potrà ammirare gran parte del suo lavoro rivolto a personaggi del territorio marchigiano oltre che scatti al femminile, fotografie di teatro, danza e musica. Una quarantina di opere che attraversano la sua lunga ricerca artistica che inizia nella seconda metà degli anni 70. L'artista ha al suo attivo oltre 100 muse di importanza nazionale e internazionale riconoscimenti, premi e pubblicazioni. La mostra è a ingresso libero. L'esposizione sarà visitabile fino al 30 settembre. Lo sport si disputeranno questa sera mercoledì sui campi del Vivere Verde le due finali del primo torneo nazionale Open Città di Senigallia di tennis. Ottimo livello quest'anno del torneo maschile e femminile. Parteciperà anche Elisa Mezzanotte. La finale femminile inizierà alle 19.15 sul campo centrale e poi a seguire quella maschile. Summer Jamborì. Questa sera, mercoledì 5, arriva l'irresistibile Big Hawaiian Party sulla spiaggia di Velluto, lungo Mare Mameli, davanti l'acquapazza oasi di mare. Greg, Max Paiella e Jolly Rockers. E poi i Tiki Twitters. È tutto anche per oggi. Grazie. Come sapete l'appuntamento è per domani. Vi aspetto. Come sapete l'appuntamento è per domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.